Io veramente ragazzi, io penso che la tifoseria giallorossa sia una delle tifoserie più incoerenti e lamentose di tutto il pianeta Terra. Assolutamente, voglio partire con questo attacco alla mia tifoseria di cui faccio anche la parte, per un semplice motivo. Oltre alle varie critiche che io ho mosso nei miei video precedenti, una cosa che io non capisco è il fatto che non siamo mai contenti. Ci lamentiamo che i giocatori sono mercenari, che vengono ceduti i migliori giocatori, che i giocatori non si affozionano mai alla propria maglia, che guardano solo il Vildenaro. Poi, quando un giocatore della nostra rosa vuole rimanere assolutamente alla Roma, ci incazziamo lo stesso. E questo è quello che io non capisco, perché bisogna sempre trovare il motivo per lamentarsi di qualcosa. Una volta che un giocatore vuole restare a Roma per tanti anni, ci incazziamo pure? Lasciamo stare che si tratta di Gonalon, e allora il valore del giocatore è quello che è, ma ci incazziamo pure? Giocatori come questi sono un patrimonio per la nostra squadra, e bisogna tenerseli stretti, prima che cambino idea e vogliono andare da qualche altra parte. E questo è quello che io non capisco. Gente come lui, bisogna dargli supporto, bisogna fargli capire, tu sei il centro del nostro progetto. Perché gente che vuole rimanere a Roma, è giusto che abbia le sue possibilità, o no? O bisogna sempre pensare ai giocatori forti, ma mercenari? Tidiamoci quelli che vogliono realmente tenere la nostra maglia. Veramente, sempre a lamentarci siamo. Io non c'ho parole, ma sempre ad offenderlo, poverino. Se ha subito un trauma da piccolo, non è colpa sua. Se lui guarda tutto quanto e ha una velocità dimezzata, non è colpa sua. Se lui gestisce e fa le cose che ha una velocità minore rispetto agli altri, non è colpa sua. Stiamo gli vicini, diamo gli supporto, invece di criticare sempre. Niente, è un semplice video che volevo fare per stare vicino a Gonalon. Basta, basta critiche. Veramente basta critiche. Ciao ragazzi. Sto coglione, quando è che se ne va a fa' un culotacci sua?